Ciao a tutti, parliamo sempre di sistemi lineari. Abbiamo visto che è possibile risolverli con il metodo della matrice inversa, il metodo di eliminazione di Gauss. Oggi vi faccio vedere come risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite con il metodo di Kramer. Se vi ricordate bene, nella playlist sistemi lineari vi avevo già fatto vedere il metodo di Kramer, ma per i sistemi di due equazioni in due incognite. Oggi vediamo la regola di Kramer con i sistemi di tre equazioni in tre incognite. Si tratta di andare a calcolare il determinante di quattro matrici. Matrice numero uno, la chiamo D. È la matrice che si ottiene mettendo nella prima colonna i coefficienti della X, nella seconda colonna i coefficienti della Y, nella terza colonna i coefficienti di Z. È una matrice 3x3. Per trovare il determinante utilizziamo la regola di Sarrus. L'abbiamo già vista nei video precedenti, quindi non mi soffermo sui calcoli, vi scrivo direttamente il risultato. Voi ovviamente fate tutti i calcoli e verificate che venga meno 15. Matrice numero due, la matrice che chiamo DX perché al posto della colonna delle X metto i termini noti e ricopio la colonna YZ. Anche qui calcoliamo il determinante di questa matrice con Sarrus e vedrete, facendo i calcoli, che viene meno 45. Terza matrice la chiamo DY perché al posto della colonna delle Y devo mettere i termini noti e la colonna X e Z le ricopio. Il determinante qua viene meno 30. Quarta e ultima matrice, indovinate un po' qual è, DZ. Avete capito ormai la logica? Quindi DZ avrò la colonna X e Y ricopiate e al posto della colonna delle Z la colonna dei termini noti. Il determinante qui fa meno 15. Ora che ho trovato queste quattro matrici, sono in grado di trovare la soluzione del sistema. Il metodo di Cramer mi dice che X si trova facendo DX fratto D. 45 diviso 15 fa 3, il segno meno per meno più. Allo stesso modo, secondo voi, a cosa sarà uguale Y? Esatto, DY fratto D. Anche qui meno per meno più 30 diviso 15, 2. E infine Z si trova facendo DZ fratto D, ovvero lui diviso lui, che fa 1. La soluzione del sistema è questa. Piccola parentesi, quando risolvete un sistema lineare 3x3 con il metodo di Cramer, avete tre possibilità. Se il determinante della prima matrice, quindi D, è diverso da 0, ho un sistema determinato e quindi ho una soluzione, come in questo caso. Se invece il determinante della matrice D è uguale a 0 e anche tutte le altre tre matrici, quindi ho 0, 0, 0, allora il sistema è indeterminato. Terzo caso, se è uguale a 0 e almeno una di queste tre matrici è diversa da 0, allora il sistema è impossibile. Ricordatevi bene questo schemino. Non c'è bisogno di impararlo a memoria, basta ragionare. Perché? Perché se D è diverso da 0, vuol dire che in questa formula il denominatore è diverso da 0 e quindi sono tranquilla e quindi ho un sistema determinato. Se D è uguale a 0 e tutto è 0, qui nella formula ho 0 diviso 0 sia per la x che per la y che per la z. Quando ho 0 diviso 0 nella formula il sistema è indeterminato. Terzo caso, se il denominatore si annulla e invece il numeratore no, per esempio pensate qua, meno 45 diviso 0. Io non posso mai dividere un numero per 0 ed è chiaro che quindi il sistema è impossibile, ok? Questa è la situazione che potete avere quando utilizzate il metodo di Kramer. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati. Se erano troppo facili, troppo difficili oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli e ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.